E' cominciata la finale per la medaglia di bronzo tra Lucia Borico Giudoghi Blu e la sua avversaria l'Ucraina Anastasia Matrosova. Sarà un incontro difficile anche questo per Lucia, poi ecco le atlete si conoscono bene, si sono sempre incontrate, quindi sarà dura. Sono uscite dal settore. Non c'è stato nemmeno il putteggio minimo del Koka, tre minuti al termine. Ricordiamo nel caso di parità si andrà al Golden Point. Fortissima a terra immediatamente. Ecco l'Ucraina la conosce, quindi si è chiuse immediatamente. Si chiude immediatamente, si ecco qua è tutto un anticipare sulle prese. 2.35 al termine. No, ecco l'Ucraina! E' medaglia di bronzo! Ed è stupendo, è felicissima! Lacrime sul volto di Lucia Morico!